Voglio fare un omaggio anche a un'altra artista che ha ispirato in tutti questi anni il mio modo di cantare, il mio modo di amare le belle voci, il bel canto. Questa cantante è l'unica indimenticabile con il nostro canale. Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori dentro. Credimi se vuoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà. Grazie a tutti. 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 che sia con il cuore nello sto un comitolo lì da sola dentro un brivido ma perché lui non c'è insieme e sono nei pensieri che li nascondono storie delle che ma si lasciano come noi mi dispiace non darmi questa volta l'ho promesso a me perché ho voglia di un amore vero senza te senza te senza te senza te allora siete pronti questo è proprio l'inizio di tutto marco se mi ha tanto e non ritorno più il treno dell'età è un cuore diventato senza anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è forte marco è dentro me è dolce il suo respiro fra i pensieri le mie distanze non mi sembrano dividerci ma il cuore parte forte dentro me chissà se se con gli amici parlerai non c'è ma ci credo stai a scuola non mi posso più dei pomeriggi studiare inutile tutte le idee sia fuori l'anno su te non è possibile la vita di noi non mi posso stare senza te diventare la storia di non due aspetta la mia io lo sentivo un po' con loro chi mi conosce sa che questo è il momento del dai che cantemo dove voglio sentire anche le vostre voci fatemi sentire un po' di disperazione giusto un po' proviamo dai non è possibile la vita di noi due ti prego aspetta via e via qui c'è stato qualcuno che gli è partito qualcuno che si è trattenuto dicendo ma non lo so forse non ci arrivo forse è troppo alta è colpa della mascherina allora facciamo così quando arriva quel punto lì signora provoca via un attimo spara l'acuto e quella rimette e verrà un acuto preciso preciso proviamo provate a pensare a qualcosa che insomma voi state dicendo alla persona che amate aspettami non posso stare senza te insomma c'è proprio una disperazione estrema quindi non si può vivere ipotizziamo che quel momento sia adesso e proviamo a far l'acuto insieme dai grazie non è possibile dividere la vita di noi due signorati molto meglio no? fatevi un applauso bravi ha visto signora i poloni si sono riempiti completamente un applauso alla signora perché è stata fantastica bravi grazie 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 grazie